OOOOOOOH Buona ragazzi ben tornati a un altro video di Square Gaming sempre qua con tutta la combriccola a giocare a Call of Duty Ingenier Beats e Andrew Gomer Si chiama cosi sto gioco Cosa? Come si chiama? Call of Duty, si Qual è? Ghost? Modern Warfare? Black Cox Black Cox Black Cox Mi piace questa nuova edizione Allora, nuova modalità Io e Fra contro Bato E Andrew Scamzilla e Bato contro il resto Scamzilla e Bato Partita e cominci Tu sei quello in basso a sinistra Ma sei con me no? Si si Bato stammi vicino Cecco dove sei? Io non so però, non conosco questa mappa I bei cazzi, i bei cazzi, i bei cazzacci Sali sopra Stai attento perchè loro hanno armi a lunga gittata Anche io Sa già dove puntare la merda Ok, tu sei labato Io mi accampo eh Accampati accampati Ce l'hai il fornelletto elettrico Attento sta già mirando cazzo Si sta sparando? Si che non l'ho visto Attento attento Dove cazzo sono finito? Ma chi è che sta sparando? Quanti cazzo di bagni ci sono in sto posto? Figa È tipo La fiera dei bagni Ci sono tutti gli stand Io mi son perso tanto per cambiare Oh santo dio, chi è che mi sparava addosso? Non so non sono stato certo io Il campero Attenzione ai batto ti sta girando Ah 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 Buongustaio Lo vendecano Scadosh Ragazzi Non abbiamo ucciso qualcuno Si? Beh Ma Andrew merda Dov'è? Wow Continua a saltare contro un muro nero Minchia Volo a bora a bora per 200 petecchioni 200 kill e vai a bora a bora Magari Uuuuuh Bella Ma tu dove cazzo sei? Ma io sono qua intorno che non trovo nessuno Come al solito quando queste mappe che non conosco vado in giro Figa ragazzi con lo schermo così piccolo mi sanguinano gli occhi Faccio sexy Immagina quelli che verranno al video Hahahaha Sono qua Gus Mi vedi? Si ti vedi adesso ti vengo dietro No aspetta non mi piace però Hahahaha Ma che roba è? Ma dai Mi ha preso da dietro cazzo Maledetto invertito Questo cazzo C'è Andrew fermo non uscire Nooo L'ho ucciso io con un colpo alla testa Minchia questo è vero Chi si è messo verbale Hahahaha Nooo Vabbè vato voglio anche il suo culo dov'è Hahahaha I want your ass Your ass is mine Minchia comunque si mira molto meglio rispetto a Destiny cazzo Ma te l'ho detto guarda che legnoso Destiny Minchia Destiny mi troppo E come Battlefield Bad Company 2 Nooo Il merdone mi...sempre da dietro Il pavido No mi corri davanti Io sono lei che cammino per i cazzi miei e mi corri davanti e dico ah E io che ne so che ti sto correndo davanti Se lo sapessi non ti correrei davanti Oh santo dio Merda Merda C'è una merda C'è una merda Ma che poi lì l'hai messa per sbaglio Perché tu volevi No 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 l'ho messa apposta Perché una volta l'ho visto là sotto E' che si è messa verbale Ti ho vendicato ho scritto vendicatore Sento Ucci ucci sento d'or di Pau Ma questa cosa che non si può scivolare Mi la fostì Eh Un bel gioco che c'aveva la scivolata era fire 3 Che? Un bel gioco con la scivolata era fire 3 Ma perché l'altro facevi il calcio Si Il calcio rotante era da Chuck Norris Si facevi il calcio rotante era da Chuck Norris Calcio rotante in scivolata Nice Ho capito dove sei Attento ci vuoi t'ha visto Mi hai visto? Che maledetto che guarda lo schermo al tuo E' dietro il culo della polizia Pezzo di cazzo Pezzo di cazzo Dai Andrew io ti sto aspettando Eh lo so E' quello che non sto venendo Chi è che è in libreria? E' il campero che è me che ti sta aspettando Vieni vieni Andrew vieni vieni che è tutto bello Il nemico ha distrutto il vostro equipaggiamento Vaga ma perché mi hai fatto una mapa così grande cazzo Che vi devo cercare Devo capire dove siete Madre di... Godi zitta in cassa Frania mettiamoci vicino cazzo Andiamo a cercarli Eh ma dove sei Doc? Eh ti sto venendo a prendere Se guardi la mapa No guarda che ci sta venendo anche Andrew a prenderci Guarda che lo vedo No questa mi ha tirato Mi ha tirato una merdata Eh ma non era Andrew No no E' rabato No io non ho più il coso scioccoso No non è Ride Ride il merdone Guarda che ti sta aspettando Andrew Non muoverti Ah ma Andrew E' vicino al camion dei pompieri Andrew Come sono i pompieri? Come si? E' lì è lì attento Va 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 Ma dov'è? E' lì sta arrivando da lì Grazie No da lì Mi ha tirato Mi ha sciottato Ma dov'è Bato? In tutto questo Bato si sta facendo le seghe dentro un bato Dov'è? Bato? Dice la guerra non fa Dove sei ingegnere? Dov'è? Sto aspettando i tuoi uomini Quei stronzi Ma perché continuano a sentire mine che esplodono Da per tutto Ma nessuno muore Brava veniamo vicini vicini Dai Vedi che ti sta venendo in cura Putta merda Andrew Spero davvero che ti venga Un attacco epilettico al buco dell'ano Dai Io seguo te Dai Stai fermo Tu vai dall'altra parte Io vedo da questa Attento attento Sta arrivando Via via Ma dov'è? Dov'è? E' lì dietro Sta salendo le scale Attento Bato mi serve un po' di backup Sta arrivando Brutta merda Backup Backup Amo di backup Now Fuck 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 Come dire il bel paperino Butta checca. Pompinara Arrivo Andy Arriva Arriva Ci pensa a lui Uta comunista Checca e pompinara Ti strappo la testa Ti caco in gola Certo eh che c'è tutto wow wow colpa la testa questo colpa la testa al signorino Andrew nice anche Bato ha subito Bato no ma Bato non mi diverto asforzo grazie non c'è divertimento soffro un po' anzi hai finito di piazzare mille Andy shh fai schifo da merda lo cazzo no no maledetto eravate tutti e due lì come fai hai visto che sono riuscito a schivare la tua iniziativa e farti ammazzare da Bato no non hai schivato un cazzo ti ha sciottato lui è tutto voluto ma se non sciottava lui eravate tutti e due morti attento 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 Gio corri dalla tappata attento grazie ma dove sono Andy dove sei finito oh cazzo ho visto Andrew dove è andato non lo so stà facendo il giro qualcuno si sta camperando no 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 ragazzi se vincete per le mine dovete morire no 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 questa volta granata che palle tu e le tue granate ma sono sotto di due per chi va a sd. di laner non sono non non sento non 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 sento c'è troppo rumore di per riuscire a sentire le vende c'è lo sottocolpo chi mi ha un buon cd cecco chi mi ha un buon d controllate il tempo che cazzo sei dai che ho deciso batto dai che pareggiamo dai 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 fra pareggio morte su no fra se vuole incamperare ah ma questo è il cadavere di fra attento attento giù no no stavo per far salto di noi dai rivincita però su una mappa di da fa sono sempre nuketown perchè basta nuketown eh ma noi non sappiamo allora un'altra media un'altra media piccola ma no allora sapete quale? la porta aerea ci sta la porta aerea ma poi facciamo la squadra io e batto contro tu e Andrew si è un po' più equilibrato ahahahahah ma no comunque ho fatto più di te ahahahah ahahahah ho shottato pure quello hai shottato oh bello da rivincita sta sulla porta aerei ma che cargo è piccolina però potevamo fare anche quella dai facciamo cargo dai eh ma lui non conosce cargo ah io perchè secondo te lui invece io minchia c'ho 2000 ore loggate su cargo solo su quella mappa minchia caccio da flag ragazzi io già lo so io già lo so comunque bisogna bandire le mine da mettere per terra sennò sono una lamerata clamorosa Gus vieni dietro eh senti se lui continua a fare il campero io faccio il laner ma io non faccio il campero il campero lo faccio solo con te che ti odio cazzo e tu lo sai che io non resisto un cazzo di campero ma perchè sono morto? perchè ti sei lanciato giù da una porta aerei ma no ce l'ho conta? conta quella? no no ma cos'è stato? tutto il vostro equipaggiamento maazzi che guarda di logoramento dove cazzo sei? ma il logoramento dico io wow complimenti no questo merita da grandi poteri grandi responsabilità arrivano grandi anal fisting attento ce li vedrai cercati è stata la mappa a memoria quindi basta che guardi tra l'altro c'è lo schermo un po' piegato e non vedo un cazzo voi siete al centro vedete tenerle mi nascondono così dai andrew vienimi a prendere Aspetta 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 aaaaaah per un pelo nooo lo sapevo che stai venendo perchè? è stata la tua bouncing betty che ti ha ucciso ma veramente ma veramente ma veramente ma veramente wow eh capita tanto c'ero io cioè io uno era davanti l'altro era dietro quindi eh è richiuso a panino la famosa la famosa mossa del panino del dow death quella che ti piace tanto il quid pro quo no ti ho preso no ma no ma con lo scudo come si fa raga c'è che palle oh merda no ma cosa è successo sai che non ho capito cosa succede qualcuno mi ha mangiato una delle mie mine oh merda solo perché avevi messo la mina infame no 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 ti ho fatto saltare io con una delle mie granate te lo dici così senza tanti complimenti attento gus sta venendo attento gus attento gus colpa la testa eh no sono le mine ancora eh sì non ci sono non le vedo ma perché non muori gus ti sparo le chiappe ma no perché non so sparo le mie minchia stuprato mamma mia questo grande già vato eh ma ti ho ucciso anche io già vato come no sì no no sto ancora vivo perché dai dillo che però un po' ti frizzano le chiappe brutto maiale brutto maiale ha minato tutto attento gus attento gus guarda che quello vuoi far vedere dove la metto attenzione il vostro quals'elettrica distrutta no bato cazzo ti sei messo davanti nel momento che lo uccidilo grande ma tutta una tecnica che culo non so stai attento per un pelo di cazzo ma non ti sta sparando è un'altra di quelle fottute mine attento ho messo un sacco di mine ovunque ci credo minchia bravo bravo Joe usa la tecnica del depistaggio ma cosa c'era ah no mi ha tirato una cosa sì sì ti ho tirato un bussolo se c'era una mina sotto il tiller mi sono ucciso da solo però conta come kill perché li avevo colpito prima sei contento? sì mi piace molto donarvi le kill vi servono una grande farà il donatore di sperma già faccio grazie è un'impresa un po' fai da te però questo è batto no colpo alla testa e sopravvissuto sukha senti com'è contento tanto batto che dovresti aver cecco che mi sta puntando ma è lì dalle tue parti merda merda no bravo che culo che hai avuto no ho ucciso tutti e due io altra mamma mia bravo doppia uccisione quando fai così ti giuro mi ecciti cazzo sì dai vieni qui Andrew che ci pensiamo noi a chiuderti a palino mentre tu sei distratto da me hanno distrutto il vostro equipaggiamento chi ma cosa stai dicendo ma c'è una nave là in fondo qualcuno ha cambiato direzione quando ha capito da che parte tira il vento cazzo e tu si e vai il tuo amico mi ha ucciso ma cecco sta ancora giocando o è andata a scapperarsi si fa ammazzare da me ogni tanto a parte questo vabbò cazzo wow no merda stava caricando che fail se no ti pigliavo che culo mi hai pigliato ma non nel modo in cui si pavavi no stava caricando doc sennò eri fottuto vieni Gus non ci credo c'era una bomba poi l'hai lanciato a te ma si che non ho capito ce l'ho messo io la minella com'è che si faceva il tuffo delfino corro e salto no corro e salto attenzione il vostro equipaggiamento è stato distrutto oh qualcuno ha deciso di cambiare un po' la strategia intanto batto dietro abbassati il mitico master bait Andy siamo sotto fai qualcosa eh c'è cieco che continua a correre via come come ti rode così ti voglio Andrew bello carico bello carico dai dai che un po' ti piace ma è morto il tizio o no no non è morto no cazzo ah ma era dietro di me si si no io pensavo che stai sperando da tutt'altro dai Andy rimonta rimontone ma che rimontone teniamo duro cazzo cazzo duro dai un po' di stanza 14 Andy dai che si sale ma guarda che scrabbone ho distrutto il vostro equipaggiamento ma perché lo muore 3 colpi in faccia 3 colpi in faccia 3 colpi in faccia stanno a morire cosi albito venduto e adesso dai dai scatena la tua follia no dai giù 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 cosa c'è eh ne ho ammazzato uno ma l'altro ma l'altro ti ha sparato un tubo fra le gambe wow così non va bene datevi una mossa non va bene per un cazzo no no Andy siamo nel pallone mamma mia ma quante volte ti sto stuprando Andrew c'è Francesco quando vince questi giochi qua è insopportante ma è solo contro Andrew ma lasciamolo perdere Andrew mi regala questi momenti di altruismo gaio attento scendi 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 giù ti ha lanciato una mina attento abbassati guarda che sta venendo su sta venendo su verso di te girati girati no ma stai mi chiamato mi chiamato mi chiamato mi chiamato cazzo durissimo figa questo rocco style solo i veri pro no attento giù attento giù vaffanculo il lamer ah raga 0 secondi la bella la bella la bella aspetta un attimo maiala ma lo faremo vedere nel prossimo video raga per la bella nel prossimo episodio